Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò delle torri di Pavia. Buona visione! Caratteristica del centro storico di Pavia è la presenza di torri gentilizie medievali realizzate tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. Le torri presenti a Pavia dovevano essere all'incirca 65, di queste ne sopravvivono circa 20. A Pavia le torri non furono costruite per difendersi, ma per rappresentare la potenza dei vari clan familiari. Si tratta di edifici a pianta quadrata, lunga mediamente 5 metri per lato. Il basamento è rinforzato da pietre di grandi dimensioni, il fusto realizzato in mattoni lasciati a vista. Lo spessore delle murature è di circa 2 metri. Seppur gran parte delle torri si era ridotta in altezza, ancora oggi alcune svettano sul cielo di Pavia, come la torre del Maino, alta 51 metri, o la torre di San Dalmanzio, alta 41 metri. Per l'epoca erano dei veri e propri grattacieli. Spero vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao!